Ma buongiorno carissimi amici benvenuti alla Caronline ma benvenuti a Carmagnola siamo in piazza Sant'Agostino cuore pulsante della nostra bella città che vi invitiamo a visitare perché è veramente bellissimo molto più di quello che pensate ma grandi novità la Caronline grandi novità a Carmagnola nuova Volkswagen Taiko eccola carissimi amici eccola vedete l'immagine guardate che bella macchina il primo SUV Coupé di Volkswagen 4,25 metri poco più di una Volkswagen T-Cross intorno ai 15 cm in più ma una linea assolutamente accattivante come veramente dice la nostra definizione SUV quindi un po' più alta ma un po' Coupé proprio perché abbiamo piacere di presentarvi questa veramente questa macchina accattivante interessante sportiva ma comoda perché è un segmento che ci mancava e tanti di voi ci avete chiesto una rompa un po' sfiziosa questo momento da oggi ce l'abbiamo elegante senza essere fatemi dire esagerata quindi in dimensioni usabili però molto molto piacevole molto tecnologica connessa naturalmente e come vi dicevo già molto spaziosa anche grandemente utilizzabile all'interno molto molto fruibile proprio comoda no naturalmente con i motori da 95 a 150 cavalli per accontentare fatemi dire praticamente tantissimi di voi addirittura anche pensate carissimi amici con i fare a led di serie per tutte le versioni col cruscotto digitale per tutte le versioni il cruscotto morbido morbido soft touch che tanti di voi apprezzano tanti di voi ci chiedono tutto questo nuova Volkswagen Taygo alla car online da 20.800 euro che all'è in gran presa perché all'è una gran cosa addirittura pensate che avessimo invece la versione R line come il tetto è un'appribile panoramico di serie da 20.800 euro cambio manuale a 6 marce cambio automatico a 7 rapporti venite alla car online vi aspettiamo per farvela toccare come dice un mio illustre amico toccare sentire il profumo vedere e provare questa gran macchina vai ma nuova Volkswagen Polo guardate che macchina carissimi dici tante versioni da 80 cavalli a 207 cavalli con la spettacolare GTI alla car online a partire da 16.400 euro anche per la versione neopatentati da 16.400 euro ma non solo come ha disio già gli antenati ma come la paguma sta Polo stai tranquilli come disio ma sempre anche in zero anticipo e fino a 96 mesi o con progetto valore Volkswagen anche con quattro anni di garanzia compreso nel prezzo ma non solo alla car online pronta consegna nuovo Apollo va spe tu ma vai ma quante T-Roc ci sono in giro ma quante ce n'è pensate assolutamente questa nostra best seller la vettura a livello di quantità numero uno del gruppo Volkswagen veramente non a caso guardate quante ce n'è in giro perché è veramente una grandissima formula pensate alla car online da 23.300 euro 23.300 euro anche naturalmente col progetto valore Volkswagen quindi quattro anni di garanzia fino a 80.000 km e udite udite pronta consegna guarda bene abbiamo come dire colori infiniti ma ne abbiamo un certo numero importante da dettla subit vai ma come non parlare di T-Cross la nostra mascotte guardate che macchina grande successo ma perché perché compatta e alle auta quindi comoda cliente viene prova si siede si risiede e sale e scende una meraviglia perché domandente le macchine basse sai niente naturalmente abbiamo il cambio manuale 5 o 6 marcio il cambio automatico se trabordi DSG che sta riscuotendo grande successo venite a provare il cambio automatico che è una roba di una facilità di una piacevolezza esagerata si impara allenati però poi una torna niente andare la prova alla car online col cambio automatico nuova T-Cross alla car online a partire da 18.700 euro sempre con come la paguma sta macchina zero anticipo e fino a 96 canoni oppure col famos progetto valore Volkswagen quattro anni di garanzia una meraviglia totale fino a 80.000 chilometri ma non solo alla car online nuova T-Cross a Sleys pronta consegna grazie alla simpatia grazie a vostro affetto grazie a vostra disponibilità noi siamo sempre belle sì da lunedì mattina fino al venerdì sera il sabato anche naturalmente sempre il mattino e il pomeriggio vuospettuma alla car online veramente grazie ciao